Siamo a Carugate e siamo in compagnia del sindaco uscente Umberto Gravina che si ripresenta anche per le ormai prossime amministrative del 15 e 16 di maggio. E qui davanti alla sede del comune chiediamo proprio al sindaco Gravina di farci un breve bilancio di questi 5 anni, anni faticosi per quanto riguarda i bilanci però anche colmi di soddisfazioni. Sì, io amo dire che se le condizioni economiche lo permettono tutti sono capaci di costruire ponti, scuole, case, municipi eccetera. La dote che deve avere un sindaco secondo me è quella di avere evidentemente il polso della situazione, conoscere l'amministrazione, mandarla avanti ma è quella di condurre in porto tutte quelle situazioni a carattere sociale che ultimamente comunque imperversano nei nostri comuni e diventano proprio un dilemma, un dilemma a cui molto spesso non possiamo e non sappiamo neanche rispondere. Quali sono le principali soddisfazioni di questo quinquennio? Beh innanzitutto, a parte un po' di opere le abbiamo mandate avanti, insomma abbiamo costruito 23 case in edilizia economica popolare che sono state premiate all'Assemblea del Lanci a Padoa ultime a ottobre-novembre scorso, primo premio dovuto alla capacità e sostenibilità ambientale appunto di queste costruzioni. Ricordiamo che Carugate è stato uno dei primi paesi, città, anzi la prima in Italia e la seconda in Europa ad introdurre regole cogenti per le costruzioni di edifici, riguarda appunto l'ambiente, la copertura, l'energia eccetera. Fra l'altro ne abbiamo già ancora in costruzione, l'ultima chicca per quanto riguarda quest'ultimo pezzetto di amministrazione è la costruzione di un campo fotovoltaico di 10.000 metri quadrati, 750.000 volt, che daranno al comune proprio per penuria di mezzi di sostentamento circa dai 250.000 ai 300.000 euro l'anno. Altre cose fatte ma che sono la Casa dell'Acqua, per esempio Atrion che è un centro socioculturale apprezzatissimo dalla popolazione, la biblioteca nuova, tecnologica, fra l'altro quando è stata inaugurata l'assessore provinciale, Daniela Benelli, come dire, la comparava un po' a una piccola Svezia, insomma, quindi sono cose che fanno piacere. Oltre per esempio al fatto di essere dal punto di vista ambientale uno dei primi, ora città, fra in Italia, che è detta ancora regola su questo tema, insomma. E poi non è citato la caserma dei carabinieri che è anche un'altra realizzazione. Certo, per quanto riguarda la sicurezza, anche se in astratto dicono che il centro-sinistra non vuole carabiniere, eccetera, io credo invece che il tema della sicurezza sia un tema fortissimo, sentito dalla nostra popolazione, tant'è vero che è in via di apertura, credo pochi giorni ancora, la caserma dei carabinieri che ho voluto fortemente dal 2006 in poi e ora finalmente abbiamo raggiunto anche questo obiettivo. Ecco, perché ti ripresenti dopo la fatica di questi cinque anni? Beh, un po' per concludere quanto abbiamo già cominciato. Abbiamo un buon programma elettorale, questo, condiviso da tutta la coalizione. Ci ripresentiamo ancora uniti una coalizione di centro-sinistra vasta, allargata, che va dal PD alla federazione della sinistra, che ha raccolto un po' tutto quanto della sinistra. Abbiamo condiviso questo programma che si basa su quattro, cinque idee, come dire, forti, che sono la sostenibilità ambientale, come diceva, la sicurezza, l'ambiente bello, vivibile, la città, dal punto di vista sociale, il mantenimento appunto dei servizi sociali. Carugate anche in questo, per quanto riguarda il sociale e per quanto riguarda gli aspetti culturali, si pone, credo, all'avanguardia anche all'interno del panorama della provincia di Vinano e forse per certi aspetti anche nei confronti della Milano stessa. Un sogno per la carugate dei prossimi cinque anni? Beh, un sogno... Beh, intanto, per esempio, il palazzetto dello sport, noi l'abbiamo ripresentato. L'altro sogno potrebbe essere quello di una città senza tanti problemi, la possibilità di lavorare per la nostra popolazione, non avere affanni, però sono sogni. Insomma, noi faremo in modo però che queste cose possano, per quanto c'è possibile, avverarsi. Umberto Gravina, candidato sindaco per progetto Carugate, per il centro-sinistra dunque, per le ormai prossime elezioni del 15 e 16 di maggio a Carugate. Un programma, come avete sentito, realizzato in questi cinque anni e denso di prospettive per i prossimi che sicuramente merita la fiducia dei carugatesi e può essere guardato con simpatia anche da tutti coloro che vivono attorno a questa città. Grazie.